Sono Luisella Floris di San Luri, faccio parte di questa compagnia da 4 anni, sono veramente orgogliosa di farne parte perché con questo trasmetto ai miei figli e anche alle nuove generazioni l'amore per questa attività teatrale e per il mantenimento giustamente della nostra lingua che è cultura, è tradizione, è parte di noi perché noi siamo e vogliamo essere questa terra, la nostra Sardegna.